Grazie Presidente. Allora, questo è un problema che il Comitato di Cittadini sta affrontando da tantissimi anni e ci sono degli atti già dal 2012 che richiedevano la rimozione di questo cancello di Via Forti e la soluzione delle problematiche del quartiere. È un problema che sta andando avanti da tanti anni ed è oggettivamente un problema complesso. Questa mattina abbiamo fatto una commissione urbanistica e con la consigliera Mennuni abbiamo deciso di sottoscriverla insieme apportando alcune modifiche al testo. Innanzitutto, nei premessi è indicata che Via di Brava è soggetto a continui allagamenti, un problema che c'è stato fino a diversi mesi fa, ma l'amministrazione municipale ha affrontato da subito questo problema, ha avviato una gara e ha già effettuato i lavori per risolvere il problema degli allagamenti, ha fatto un migliore allaccio in fogna ed ha aumentato le caditoie. Per cui noi chiederemo nella mozione di eliminare questa parte perché questa parte il problema è stato affrontato dal municipio e risolto. Nella mozione ci tengo a dirlo che effettivamente l'incrocio di cui si parla, quello tra Via di Brava e Via Grespigni, è un incrocio molto pericoloso perché è vicino ad una curva ed entrano e escono dal quartiere da quell'incrocio. Peraltro lì c'è un'azienda di petroli, lì proprio all'entrata della via, che rende il tutto ancora più complesso. Il municipio sempre per andare incontro alle necessità dei cittadini è in conferenza dei servizi adesso per mettere dei dissuasori di velocità. Sappiamo perfettamente che non è la soluzione definitiva che bisognerà fare dell'altro, assolutamente, ma intanto è un primo passo per andare nella direzione del mettere quell'incrocio un pochino più in sicurezza. Poi noi oggettivamente indichiamo in questa mozione di fare altri lavori che possano, come dire, migliorare la situazione. Ciò che mi preme poter sottolineare nella modifica che noi abbiamo richiesto, che una delle tematiche più importanti è proprio la vicinanza di questa impresa di petroli al quartiere, che sta lì a 20 metri dalle case con i silos, con combustibili dentro. Dunque noi abbiamo messo nella mozione, abbiamo condiviso di poterla modificare con questa modalità, di richiedere alla protezione civile di Roma Capitale una verifica degli standard di sicurezza del quartiere con l'Aurelio, data la vicinanza a depositi di carburante, nell'eventualità in cui venga constatata la pericolosità di prevedere un piano di emergenza specifico che tenga conto, in particolar modo, delle, e poi segue con quello che era stato scritto prima, delle regole di viabilità e sicurezza e dunque prevedere le due vie, una di accesso, una di entrata e una di uscita. In questo posto diciamo che oggettivamente... Consigliere, si avvia a concludere. Sì, mi avvia a concludere. Pertanto io adesso porterò lì al segretariato le modifiche, magari ci andiamo insieme un attimo in modo tale da consegnare queste modifiche. Chiedo proprio la sospensione di 30 secondi per poter fare questo tipo di operazione. Grazie.